Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere Gianluca Cavada della Lega, ben ritrovato consigliere. Salve, un saluto a tutti. Parliamo di attualità, parliamo di guerra, di guerra nel cuore dell'Europa, una preoccupazione, una tensione altissima non solo in Europa ma in tutto il mondo. C'è preoccupazione dal punto di vista anche per la catastrofe umanitaria che si prospetta ma anche per la catastrofe economica se la guerra dovesse continuare. Certo, una situazione drammatica che stiamo vivendo proprio in queste giornate. Non pensavo veramente che si potesse arrivare a questa invasione da parte della Russia proprio all'Ucraina. Capisco che c'è una guerra in atto già da 2014 nel Donbass e in Lugansk. Però si rischia che questa escalation ci porti veramente sull'orlo di una guerra che coinvolgerebbe anche l'Europa. La speranza è che il dialogo e la diplomazia internazionale faccia il suo corso perché è l'unica soluzione che abbiamo. Poi noi chiaramente in questi giorni ho visto che c'è una grande solidarietà da parte di tutto il Trentino per l'accoglienza di queste persone, di queste donne e bambini sostanzialmente che scappano da questa guerra e quindi a noi abbiamo un dovere, un dovere morale di accoglierli. Anche ieri era una manifestazione a Cavalese ma sorpreso perché c'erano più di 500 persone e erano proprio arrivate già due donne con bambini appresso d'Ucraina e è stato molto toccante sentire le preghiere nella loro lingua e anche l'inno cantato dell'Ucraina. Quindi penso che comunque ci sia una grande disponibilità da parte di tutto il territorio del Trentino da accogliere queste persone e anche con sostanzialmente degli aiuti umanitari di prima necessità. Certamente dunque dal punto di vista dell'accoglienza e dal punto di vista umanitario, per quanto riguarda l'economia voi sarete anche preoccupati per il turismo in valle? Certo, anche questo ha toccato il settore del turismo perché sappiamo che soprattutto anche nei mesi gennaio, febbraio non avevamo una grande richiesta da parte proprio del settore dei turisti esteri, anche della Russia e quindi questo ha penalizzato molto il comparto del turismo. Poi siamo chiaramente preoccupati per i costi energetici perché vanno a toccare non solo le famiglie ma anche le aziende, gli alberghi perché questo innalzamento dei prezzi dovuto anche a questa guerra che si sta svolgendo penalizza tutto. Anche le sanzioni che stanno portando avanti danneggiano non solo la Russia ma anche il nostro sistema economico di import e sport e anche del gas. Una situazione complicata dunque, le speranze erano riposte nel piano nazionale di ripresa e resilienza ma che a questo punto rischia davvero di essere compromesso, dobbiamo dire. Sì, ma io spero che si risolva abbastanza in maniera celere questa guerra perché abbiamo questa importante partita del PNR, delle importanti risorse per il nostro territorio, sono circa un miliardo e duecento milioni che verrebbero stanziati alla provincia che ha in mente dei bei progetti, abbiamo la ripartenza della resilienza ecologica e anche per il settore sanitario che è uno dei problemi che più ci sta a cuore perché ci sono dei fondi per le case delle comunità, ex case della salute che è molto importante per un'assistenza sanitaria territoriale più capillare e presente nei nostri valli e in abbinamento ai sette ospedali policentrici che svolgono un ottimo servizio e vanno potenziati perché sotto questa pandemia ci siamo proprio accorti che il problema sanitario va rivisto e chiaramente... E' un attivo infatti la riforma, consigliere Cavada, della Sanità Trentina. Sì, 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 appunto una riforma che va proprio strutturata e che va proprio a colmare dei vuoti che ci sono stati anche negli anni precedenti. Queste case della salute che saranno circa una decina sul nostro territorio, che un'assistenza sanitaria e socioassistenziale basilare per le valli. Bene, siamo in chiusura, grazie al consigliere provinciale della Lega Gianluca Cavada, grazie di essere stato con noi, è tutto per questa puntata di A Tu per Tu, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Grazie, alla prossima, arrivederci. Grazie a tutti.